Ma quei due? Siamano veramente? Io non mi sono mai innamorata. Chissà com'è. Ehi, Isa. Ah, sei tu? Sono così brutto da farti paura? Sì, un sacco. No, ma chi era immersa nei pensieri? E a cosa pensavi se non sono troppo invadente? Sì, lo sai. Come tutti quelli di Marina Grande, d'altronde. Presuntuoti, arroganti, con delle eccezioni. Che saresti tu? Venerdì apri un nuovo locale. Ti vado ad andarci insieme. Il mio primo vero appuntamento. Grazie. Grazie.